Ho già fatto il test dell'audio? Madonna se ho fatto il test dell'audio Il test dell'audio? Però ho finito l'acqua, questo è un problema Allora in qualche modo Ho finito l'acqua a casa però Grazie mille gentilissimo E nel frattempo che ho cacciato via Carlo Con la scuola dell'acqua Buonasera cari amici, benvenuti in questo nuovo episodio Dove ci siamo solo io e Mattia Perché oggi parliamo solo di Nintendo Poi senti la voce avvicinarsi Tipo minacciosa Che brandisce Tipo la pagina con 700 righe di riassunto Insomma abbiamo parlato del bellissimo evento soli Insomma amici Che evento soli? La volta scorsa Ah ti è piaciuto Carlo? Ma gli altri non è piaciuto Astro Bot Tipo stai che lo li li per preordinarlo Vabbè potrebbe essere l'unico gioco che ha un senso Lo mettevano tipo a 50 euro in prenotazione Poi però è il classico titolo che si commette È tipo come si chiama Sackboy Verde va giù La mente si è rendata tanto del prezzo 50 euro per Astro Bot No aspetta Astro Bot Il prezzo è 70 Era in prenotazione a 50 Cos'era 70 che era un po' esagerato Per quello che ti ho detto Eh ma hanno detto tipo Non mi ricordo quanti infiniti livelli Quante robe Cioè comunque è una roba da 30 ore Io ho sentito il director da Sonic Ha detto spinge ai massimi livelli Le potenzialità della vostra Playstation 5 Boh non so Della chiavetta USB che gli attacchi Forse tipo Ti ricordi? L'era Play 2 Ogni gioco spinge ai limiti La potenza Sempre 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 Però però guarda Mi piaceva Ma io sono l'ultimo periodo Perché Sono di Zirla Zirla che si è fregata Era tipo Bevo poi Sì quando è arrivato Sì quando è stato decoloso Cioè veramente Quello spingeva Mamma mia Quella cazza ha fatto Pierino in lupo Sei anni Ognio in sei mesi Oh questa è una roba incredibile Ma in vista Infatti Era uscito in alcune cose Facciamo il meme Che è uscito Questo gioco che spinge al massimo Ma scusa Come adesso ci sono i quadrupla Cioè ogni volta che ci sono i quadrupla Cioè ogni volta che ci sono i quadrupla Quando senti quadrupla Volevo dire che è un inculato Pizza di merda Cioè appena uno dice È un quadrupla Un tizio dell'Ubisoft Volevo dire È per forza Una schiammata totale Che non devi mai comprarlo Invece poi ti vanno a comprare C'è stato il Nintendo Direct Partiamo subito con le cose fighe Sì ci sono stati però Sono anche stronzi Perché hanno detto La sera tipo Sì è vero Avevo scritto tu in gruppo La sera non l'avevano ancora detto Non so a che ora L'hanno detto di preciso Domani raga C'è il Nintendo Direct E non è che la Nintendo Ha un profeta Che ha una certa Si sveglia E lo raffa Non è che loro Lo fanno apposta Che non lo sanno neanche loro Devono aspettare Che questo tizio Che è un monaco buddista Che vive in Lappone Si sveglia E gli dà la data Di un cazzo E domani Maestro Maestro E domani muovetevi Liberate la comunicazione Arriva il paggetto Che ascolta Il sussurro del maestro Il maestro Parla Domani ci sarà il dare Presto Conche suonano Campane Gente che grida Ragazzi ma paggi con i fogli E' bello che tutto ciò Fanno milioni di view Madonna C'è pazzesco Cioè ma seriamente Poi partono Loro sono fighi Siamo pragmatici Loro Finisce il tempo Parte il primo trailer Del gioco Cioè non è Jeter e Tismader Fare lo spiegato Il video Con la CGA del cazzo No Ti ho visto Vedi subito Grafica di gioco Grafica di gioco Subito il gameplay E soprattutto Partiamo col primo gioco Che ci hanno fatto vedere Data d'uscita 7 novembre Il giorno del compleanno Sì Ti ho preso Uno giorno del tuo compleanno Uno giorno del mio compleanno Ottimo Abbiamo già i regali chiamati A posto Questo è Mario e Luigi Fraternauti alla carica Con il titolo italiano Tu puoi cagare C'è anche il nome giapponese Mario e RPG? Eh beh sì È un ragazzo di di fatto No no ma è proprio Il sequel di Mario e RPG Questo Mario e Luigi Sì ma il primo Quello per Advance No 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 Quello per Quello per Quello per C'è ancora il nome dello SNES Che va avanti con la serie Mario e Luigi Esatto esatto Infatti le meccaniche di combat Sono quelle di Mario e RPG Della squad Che hanno fatto a Remaker Recentemente Esatto Bellissimo tra l'altro Allora Ci sarà la possibilità di scottri a turni Ci sarà la possibilità di giocare in due Col secondo giocatore che tiene Luigi Boh poi sarà da verificare In realtà quanto è bello Anche sai tutte le dinamiche di coppia Per superare No ti dico che questo gioco qui È uno di quei giochi Che quando giocavo su Game Boy Advance Ho sempre detto Sarebbe più bello giocarle in due Invece che giocarle in uno Anche perché Devi coordinarti tra due tasti Ed è veramente una roba terribile Cioè io che ho grossi problemi di coordinamento Avrei preferito avere una persona Che premesse l'altro tasto E io per me Ecco lì Lì invece è il mio dubbio Vedere quanto effettivamente Poi per tutto il gioco È bello giocare in due Perché ad esempio Se un gioco ti dura dieci ore Cinque ore Tipo che ne so Noi abbiamo giocato The Dying Abbiamo giocato Borderlands Però sono giochi corti Beh più o meno Sono 23 ore comunque Ah boh Siamo stati un po' Abbiamo giocato di molto Esatto Però è tanto gameplay Vada a vedere Ballroom's Gate Che è gioco meno multiplayer Invece Però lì è tanto gameplay Tante scelte da fare Tante cose Qua sarà da capire Sul lungo periodo Secondo me Questo gioco È stato Cioè Se non intendo Un'azienda Che non fare Nel senso Di solito Non fare cose Hanno costruito Un intero gameplay Attorno al fatto Che giochi con l'amico Infatti Infatti è la cosa Che caratterizza il gioco Cioè Inizia questa parte Alla Mario Soccer Cioè È una parte Dove si fa Il passaggio di palla Tipo Mario Soccer E secondo me Hanno preso tanto Dai loro Brand multiplayer A tema Mario Per rendere il gioco Divertente sempre Poi chiaramente In due Devi prendere un tasco Quindi non è che Tutta questa Interattività Magari puoi giocarlo Con il bambino Per dire Esatto Quello io mi chiedo Tipo io e te Così tante ore A Che ne so Borderlands È divertente Così tante ore A quello Sarà un pochino Da verificare Tipo Però stai Se ti mettono Le meccaniche fighe Stile Nintendo Già tenderai a fidare Contando che comunque Chiudo poi Mario RPG È una serie Che ha sempre fatto Giochi di grandissima qualità A differenza magari Come quasi tutti Mario Beh più o meno L'ultimo Mario Ma per Mario In Game Kingdom Purtroppo È un po' Una cara Sì non era Chissà cosa Il combat È vero È vero Sì Un po' Tanto Una meta Cioè invece RPG di solito Però quello è un po' Nel video Mario e Luigi È sempre stati molto bene Cioè loro quando mettono un Mario Nel gioco Che è la loro mascotte Che sia tennis Che sia Che ne so Golf Altre robe È sempre un buon puto Cioè è difficile Che gli esca male Alla fine Ma anch'io sono convinto Di questo Che figata è sta cosa Del Nintendo World Championship E hanno fatto vedere Anche il Nintendo World Championship Net Edition Tra l'altro il 18 luglio O una roba che mi è piaciuta Tanto di sto Direct Ad esempio Rispetto all'evento Xbox Che vedremo dopo Tutto con la data Tutto quest'anno Tranne Un gioco Che vedremo poi Il gioco E praticamente loro Hanno riempito L'ultima finestra dell'anno Cioè loro hanno detto Noi da luglio Che c'è ad esempio Championship Net Edition Alla fine dell'anno Ficato al 7 novembre Che c'è fraternauti Alla carica Noi abbiamo Queste 4-5 esclusive Le tiriamo È tanta roba Sì sì Perché sono tutti i titoli Mai visti prima Tutti subito Gameplay E data Anche perché È chiuso Il ciclo del Switch È chiuso Cioè Questa è proprio L'ultima puntata Sì 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 C'ha poco da dire E poi ho messo un contesto Che ho detto Non è che ho fatto Vabbè L'ultima puntata Buttiamo qualche cagata Non buttiamo niente Per un po' E poi buttiamo La nuova console Buttiamo due minchiatine Giusto per chiudere Basti Oh invece stanno volando bene Fino alla fine E non hanno ancora detto Niente di Switch 2 Più che altro a me A me loro piacciono Perché rispettano I loro giocatori E per tutto Per tutto l'arco di vita Della Switch Ci sono stati Alti e bassi Chiaramente Però anche negli anni bassi Ti hanno fatto vedere Quelle 4 3 4 esclusive Che tanta roba Proseguiamo Secondo gioco 17 ottobre Un po' prima Super Mario Party Jamboree Vabbè Mi parli di Jamboree E non di Fantasio Quello dopo Quello dopo Che arriva dopo In scaletta Perché volevo parlare Prima delle esclusive E Boh Il classico Super Mario Party Mancava La Switch Boh La Switch Abba comunque Già dei Party Game Tipo One, two, switch Un Party Game Potrebbe essere Anche quello sul ballo No Dance, Dance Revolution Lì Quella cosa Della Ubisoft Dance One Night Eh quasi La cosa brutta Della Ubisoft Comunque ha detto Abbiamo sì 120 milioni Di copie installate Ci buttiamo Mario Party Per le famiglie Con un sacco di minigiochi Tutti i nostri personaggi iconici Tutto l'uso dei Joy-Con Eccetera eccetera C'è che lì capitalizzi tantissimo Sì Beh c'è un po' qua A Nintendo Che giocano Mario Party Quindi Mario Party O il killer app Della Nintendo Mi ricordo Pensa che Adesso una curiosità Quando vado da SensB E porto a Dean Cube Il gioco che viene giocato Inastoluto di più Ed è molto Il gioco più apprezzato Ai bambini È proprio Mario Party Eh sì Perché è tanto vario È tanto action Non action arcade È tante cosine Sì È giochi piccoli Veloci E poi bello Tidado Vediamo tante animazioni È un gioco perfetto Per i più piccoli Che comunque Che comunque la Switch Ricordiamoci Fino a ieri È stata anche Adesso è la console Che costa meno Cioè tu vai là A comprare La Series X Costa 400 La Play costa 500 La Switch Costa ancora 300 Vediamo Al netto poi Di offerte E robe così Quindi per la famiglia Va ancora benissimo Cioè il fatto Del multiplayer facile I due joycon Che possono essere dati A due giocatori Esatto È come avere due joystick Subito Per i bambini È un mazzo Anche perché hanno Le bambine piccole Allora Non è un problema Per te magari sì Che sei un essere umano Vole mai gigante Boh ma giocatori come noi Magari scomprano il pad pro E via Ce l'ho detto C'è ancora Funziona bene Anch'io Dio grazie Mi ha fatto bene Anch'io Boh ma Nintendo Storicamente Sull'hardware Lavora bene Cioè c'è stato Qualche problemino Però I tript Ma Si Pare sia fisiologico Per la grandezza Proprio Proprio Compatto Ma lì ti dico Tirando una riga Dopo tanti anni Anch'io che avevo La Switch Del 2017 Che l'ho venduta Recentemente Perché Aveva perso anche La batteria Poi esce la 2 A breve Ho detto Boh ok L'ho trovato Da vendere bene E Però Pensa Ogni volta La 2 Sì 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 Sarà un anno Tipo con il podcast Boh ragazzi Adesso ho presentato Switch 2 Adesso la 2 Vai nella vita E E E Però l'hardware Della Switch Del 2017 Puffalo Ancora benissimo Quando arriva la 2 Facciamo pubblicità Pioshi Magari gli chiediamo Lo sconto Per avere la Switch 2 Ah beh Sicuro Io la prenderò Sicuramente Da Mioshi Ah beh Sì sì Forse è valuto anch'io Se gli chiediamo Se ci fa uno sconto Se ne prendiamo più di uno Andiamo a farci un giro Da lui Mioshi Negozio Di retro game Che appello Della stazione Belluno Che tra l'altro Non ci paga neanche Per fare pubblicità Ma è un amico Quindi ci sta Io gli chiedo Lo sconto In terza esclusiva 26 settembre Quindi il giorno Del mio compleanno Sì tra l'altro Fine anno Tre esclusive Presentate così Con gameplay E con data Cioè gli altri Che imparino Madonna Il gioco dell'anno Secondo me The legend of Zelda Echoes Echoes of the mist Quello è Quello è Killer up Senza essere killer up Il quadrupla Cioè Gioco fatto con 10.000 lire Praticamente Con il motore biatico Dello Zelda prima Dello Zelda prima Quel remake Quello del gameboy Però ci ha messo Una roba fighissima Allora Premesso Io e Mike Ci stavamo riguardando Il direct Ma quello è un'uma È il tizio Che ha fatto Breath of the Wild Quello che snippa Cocaino dal culo Praticamente Madonna Per fare un gioco del genere Per fare delle idee Perché ha fatto delle idee E poi abbiamo visto Come un giorno Meccanico Cattolo Perché non è di base Anche tu hai avuto il feeling Dici Cazzo Che figata Un altro Zelda O vuoi vedere Che oracolo Dei stagioni O degli anni Che è E invece Anche io pensavo Fosto un remake Oracolo page E via dicendo No Dopo C'è tanta roba Di più Cazzo Piuttosto che parlare Di Xbox Mi parliamo Di Looney Tunes Allora Colpo di scena Controlliamo La principessa Zelda Come dove? È la terza volta Nella storia E con la bacchetta Quindi Wand of Gameron Più che altro La roba bella È che hanno mantenuto L'idea creativa Dell'ultimo Zelda Main E hanno detto Così puoi Praticamente Creare delle cose Ti fanno comunque Creare Che ne so Puoi creare dei nemici Per mandare Contro gli altri nemici Puoi creare Che ne so Degli scapoloni Esatto ma aspetta Che non si capisce Che qua Allora Ok Intanto dobbiamo capire Che hanno usato Il motore Di Zelda Link's Awakening Remake Ah certo Abbiamo detto Quindi avrà un'impostazione Da Zelda tradizionale Sì sì Da Zelda Visione Visione dall'alto Volo d'uccello Che è quello che io volevo Cioè il grande danno Che ha fatto a me Morale Breath of the Wild È avermi dato Un'enorme pianura Che è una rottura Di coglioni Da camminare ogni volta Per andare da qualche parte Oddio E questa volta Si torna nel mondo Più contenuto Penso che la critica dice Io sono abbastanza d'accordo Che Breath of the Wild È uno dei migliori Open World Del videogame È vero Secondo me Ti ho scoperto Vuoi Assassin's Creed 3? No secondo me Però che Breath of the Kingdom Ha preso Breath of the Wild E l'ha proprio Esplodere L'ha proprio fatto esplodere Eh ho capito Però arriva dopo Cioè È al corretto Dei difetti Molto gravi Sì al corretto Dei difetti Questo dio Molto gravi Mi sembra un po' Esagerato Per me Cioè io Z Breath of the Wild Non l'ho pensato Cioè Ho detto Un bel gioco geniale A livello di concept A giocarci Non l'ho pieno Di cazzi È vero Io Secondo me Eris Ma è che ha provato A riprendersi in mano Zell a Breath of the Wild A giocare Che rottura Di coglioni Però calcolate Che noi Mediamente Non apprezziamo I giochi Open World Perché sono fatto Dispersi Sono pieni di niente Però Infatti Secondo me Questo dà ancora più Valore A Breath of the Kingdom Che sono riusciti Ad ascoltare Il pippo Di chi non gli è piaciuto Ma E' l'intendo che si siede L'intendo che si siede Sia mai No La bomba Lui E' lui L'uomo che si siede Ok Ti tirano ogni tanto Qualche remaster Tipo Mario Kart Siamo ancora quasi Chiama di stronti Vabbè come Pokémon Quella si chiama gente Che sta a fare i conti In tastica Secondo me Fanno proprio questo Tirano le remaster Per fare qualche soldo E poi Osano Come si faceva una volta Ma vedi Ma piuttosto Fanno la remaster Ma non fanno Un nuovo gioco Che è uguale Come prima Cioè Piuttosto Ho detto che comunque Che si è singolata qua Penso ci abbiano investito I milioni Cioè il motore grafico C'è già Vabbè Ma spero Tanto del budget Tra me sui conti E un gioco così Da programmare Su una stanza Ma è difficile Perché Le possibilità Che le cose Non è un gioco Da 500 sviluppatori Mi dà l'idea Di essere un progetto Sotto le 100 persone Contaccato L'idea che tu Puoi avere Ogni singolo Asset Praticamente del gioco Replicabile Ovunque E che questa cosa Non scoppi Su se stessa Per il suo principio Che tu possa fare Una cosa del genere Guarda che non è Una cosa da fare Sai cosa Forse noi siamo anche Abituati con Nintendo Ogni volta Che ci stupiscono Cioè pensa Pensa alla fisica Di Breath of the Wild Esatto Pensa a Tears of the Kingdom A tutte le magie Che riesci a fare A come gira quel gioco Su un hardware Vecchio Nel 2017 Era vecchio E forse siamo anche un po' Anestetizzati Cioè nel senso Vedi una roba incredibile E quasi la dai per scontata Perché la fanno in te Io non so Io ho visto sta roba E ero lì A parte vabbè Geniale Perché è molto più difficile Rinnovare un concept Vecchio Secondo me Che non fare un concept Da zero Ma secondo me Nettamente Zelda Il migliore gioco Dell'evento Sì sì Cioè con tutto rispetto Con quelli che diremo Dopo E il fatto di come Tutti gli oggetti Interagiscono Cioè guarda solo La vita degli oggetti Il fatto che tu Possa evocarli sempre E che il gioco Brother Come dicevo È una roba Incredibile Per il tuo ambito Di programmazione Però loro calcolate Come programmazione Sono sempre stati Incredibili Cioè Nintendo Madonna Super NES N64 Ci hanno sempre Fatto dei miracoli Incredibili Se la gioca Con Looney Tunes Boh parliamo Diciamo che nel mezzo Ho fatto vedere anche Un gioco sul basket Dei Looney Tunes Che però Signor ormai Che è un po' Fuori tempo massimo La grafica è un po' Antichina No La grafica è un po' Space Jam È uscito da un po' Di anni Che figata Quindi Può essere per i nostalgici Di Space Jam Io io Se lo trovo 20 euro Se è quello Io prenderei quel gioco Quello Esiste quello vecchio Con i ciccioni Enormonica Giochi due contro due Fai le supermoste Della SNK Della Neo Geo Treptops Sì Lo trovi Lo vendono Sullo store Da Nintendo A Boste Te l'ho aperto Due euro Eh Se no costa cinque Quello Quello mi gasano Se no E' lo switch Quando vuoi Mi sono davvero curioso Di vedere Uno zella Tradizionale Quindi con i Boste In stile tradizionale Riletto In questa forma Sì Questo penso Sia Il gioco Dell'evento Che prenderò Il day one Cioè Nel senso Ci sta Beh Lo prendiamo noi Per il compleanno Vabbè sì esatto Facciamo i trippi Dei vari compleanni Delle varie cose Però per dire Guardarlo Dici ok E' il gioco Che prenderai Il day one E' il gioco Che vuoi Anche perché Così a occhio Potrebbe uscire budget Ah sì Beh oddio Io speravo Non ha limitato a prendere 49,90 Però scusa Fanno l'edizione speciale Perché non esca Una bella Limitrice Esce Switch 2 Domani E poi fanno La limited Della Switch Light Di Zelda Che potrebbe valere Un botto Perché di solito Le ultime Uccite Della console Ne vanno poche Perché proprio Inghiettudo è fatto Che uscirà Comunque Io sono veramente Stupito Di come si Non riuscite A lanciare Un titolo Di questa qualità A fine vita Della console Eh boh Ma loro Uno Non rispetto per l'utenza Due Se tu compri Switch 2 Compri Zelda E' bello Guardo Il problema Che questo Zelda Di base Dà merda Tutte le esclusive Di quest'anno E probabilmente Anche dell'anno Prima Cioè È un concept Io ti dico Che a livello Di concept È quasi a livello Di Pearson Declan No concept È geniale Poi vediamo Anche un po' Cosa esce Cosa presentano In generale Io non aspetto Delle bombe atomiche Switch 2 Per quello ti dico Secondo me Non ti dico Che il meglio L'hanno tenuto Per Switch 2 Però Qualcosina Sì ma Capisci che è il titolo Un po' Mediocre Di Nintendo È geniale Meglio di quello Che ha fatto La concorrenza Sì sì È meglio Della bomba Xbox O della bomba Play Sono d'accordo Ma degli ultimi Due o tre anni Proseguiamo 2024 Non c'è ancora una data Ma comunque Nel 2024 In diretta Dall'Apple Store Arcade Arriva Fantasia Re Fantasia No Quasi Re Fantasia Fantasia Che cos'è È l'ultimo gioco Di Sakaguchi Con le musiche Di Warbatsu Esatto Quindi Potrebbe essere figo Boh Secondo me Loro sono un po' vecchi Cioè nel senso Il loro design di gioco Abbastanza Negli ultimi loro lavori Ok Sono meglio di Nomura Ma tutto è meglio di Nomura Eh sì Non sono più sul punto Come il Persona Team O altri veterani Però non vuoi neanche chiedergli Sakaguchi ha passato i 60 Esatto No però comunque Fanno dei giochi belli Secondo me È bellissimo Gli sfondi Di quel gioco Fantasia Sembra un gioco Con un design molto figo Un combattista tradizionale Sembra un gioco Tipo Final Fantasy 1, 2, 3 No ma tutti gli sfondi Sono Diorami Sì tra l'altro Diorami Cioè proprio a livello artistico È molto bello Comunque è una bella idea Di design Cioè rispetto a tante altre cose Tanti altri JRPG Oddio Quest'anno è uscito Persona 3 Remake È uscito È uscito Yakuza 8 Ma sì così Ci vediamo Sempre Guarda se ne ho piacca un Yakuza Nel dubbio E guarda Dove un Megaspolino Il prossimo anno Uscirà un altro Yakuza Sì non vedo So che non te l'aspettavi Sicuramente Io vi ho fatto un paio di Yakuza A danno Così a occhio E boh Esce anche Metafora e Fantasia Al finito Fantasia Vediamo Però È sicuro un buon gioco Quando era uscito Apple Arcade Aveva preso buoni voti Non incredibilmente eccezionali Ma Che cosa Sai perché l'ha portato Ho scoperto che Apple Arcade Sta Chiudendo Non dico chiudendo Ma molto male Più che altro Ho letto io Che era un'esclusiva temporale Quindi anche se è cosa Ho già dopo Un po' come streino Hanno portato Stray Che il gioco dei gattini Su Nintendo Switch Lo portano adesso Perché è scaduta L'esclusiva temporale Con la Play E allora lo puoi portare in giro Quindi Ci sta Apple Il bacino d'utente Hai comunque un nome E insomma Quest'anno C'è la lotta Fra Raffan Tozzi Contro Zelda Cocaine Edition Eh Lì Allora Io così a occhio Che saranno due pesi massimi Poco da fare Saranno a giocare Più che andano Perché non vedo Che altri titoli A parte Forse Unicorn Ma è troppo di nicchia Quindi secondo me Giocano con i due titoli Sì Unicorn Overlord È già stato un po' Dimenticato da tutti Purtroppo La critica Gli ha dato bene Però Non ha fatto Quell'impatto Che ha Insomma Che avranno altri titoli Mette E mi rifiuto E mi rifiuto di acquistarlo A seguire A seguire L'1 e il 2 Nel 2025 Prima che mi diciate Una scelta del cazzo Il 3 è un prequel Ah ok Quindi L'ordine È intervenuto È intervenuto Durante il direct Yuji Ori Calma Calma Non siamo incoglioniti È data Ha detto Tranquilli L'ordine corretto Con cui dovete giocare Questa saga Perché poi È una saga Praticamente Il 3 1 2 E così avete La visione migliore Praticamente Di questi Questa saga Di JRPG E anche questo Sembra figo Perché è un po' Negattico del Cristo È una scelta Molto intelligente Di portare il motore Di Octopath Traveler Eh sì Bellissima Bello Proprio bello Da vedere adesso E credo Che abbiamo Abbiamo sistemato Un po' tutto Tutte le problematiche Come le virgolette Legate a quello Che era Il vecchio Dragon Quest Che è una Partenza di JRPG Però anche Estremamente complicato Hanno fatto qualche Qualche miglioramento Dalla quality of life Hanno aumentato Il numero di posti In cui puoi salvare Mi pareva che Una volta Di Dragon Quest Potevi salvare Solo nelle chiese Mi pare Il 7 L'8 Però io ho giocato 7, 8, 9 Cioè Non li ho giocati tutti Questo potrebbe essere Un buon Una buona cosa Per recuperarli Secondo me Scusa per riprenderli in mano Sì sì Vediamo Sembra promettente Non è esclusiva Esce anche su PC Su Play Non su Xbox Ma un po' strano Dunque i JRPG Io proverei a portarli Anche lì I Persona Escono anche lì Per dirti adesso E boh Secondo me Andiamo via Abbastanza veloci Se faremo una demo La proveremo Non so se lo comprerò Al lancio Perché quest'anno Escono 150.000 cose Però magari più avanti Sarà la roba Da recuperare Ma Penultimo gioco Del Direct 6 settembre Una collection Signor Mike Che secondo me ti interessa un sacco E i Saturni Investigations Ho detto anche Miles Edgeworth Perfect Procura Con il titolo originale Esatto Includo due giochi Miles Edgeworth E Prosecutors Gambit Quest'ultimo Non era mai arrivato In occidente Ma è nel primo Ah sì No è in America È arrivato Nel primo è arrivato Nel primo è arrivato Nel America Però due Non era arrivato Mai Nel mercato giapponese Tu cosa ci sai dire Di questi dei Saturni? Allora Delle originali So dire abbastanza Perché ho giocato E finito I primi tre capitoli Che avevano però Fini D'Drive Come protagonista E l'antagonista È proprio Miles Edgeworth Che è il compagno D'infanzia Cioè tipo L'amico 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 Di Di Blanc L'amico Di Di Clast Che hanno avuto Il loro trascorsi E uno è diventato Avvocato L'altro invece L'altro procuratore Che in America Procuratore È colui che Gestisce l'accusa Invece Esattamente Che in Italia È l'equivalente Del Pubblico Ministero Sì Perché In questo punto di vista Per il Pubblico Ministero Che fa anche L'investigatore Nel ciclo Di Amice Edgeworth Dove Tu aiuti Gamsho Che è il detective E devi raccogliere prove Portare a tuo Vantaggio relativamente Portare la verità A galla Per essere proprio Più specifici possibili E quindi Fare tutto il processo E vincerlo possibilmente È molto bello Con delle avventure grafiche Mentre il primo È più Un'impostazione Alla dating scene Dove era solo schermate fisse Dove l'indagine Era sempre in prima persona Invece Mentre Edgeworth Per per procuratore Ha una visuale Un po' più alla Broken Sword Ok Ok Bello Bello Figo Quindi insomma Devi Hai la parte In cui Alla punta e clicca Monkey Island Broken Sword Voleva raccogliere Prima Bella Prendi i tiri Solti Quindi Io non ho mai giocato A Mind Stead World Perché Non ho mai avuto Personalmente Visicamente Ma è anche Che il Giappone Non ho commosso Non è che lo Rapporte Beh no Anche qua Abbiamo fatto un remake Per una roba sensata Cioè Uno è un gioco vecchio Il secondo è un gioco Mai tradotto Esatto Quindi ci sono Quelle cose Che non sono mai arrivate Diventano Per forza novità Diventano Fattibili per tutti Come quando Ho portato Batenkaitos Uno e due Madonna Il due L'altra volta in italiano Era arrivato solo To Gamecube USA Quindi dici Cazzo Mi dai la possibilità Di recuperare Un po' di pietra Miliari E se volete Vedervi un bel anime Dei primi track An X-Write Ho fatto la serie animata Che è molto Che lo sei già vista Non se lo ricordi Perché è un deneo E' un deneo Meglio Dimentichi le cose Così puoi Rivederle di nuovo Perché non lo ricordo E' veramente L'ha fatto bene L'anime Dove lo trovi? Sei sì di pirata Non mandano il peso C'è su Netflix Credo Ok Vabbè dai Aspetta Ok ok Daremo un'occhiattina Ma Chiudiamo Con quella che è stata Dopo la bomba atomica Nessuno avrebbe mai Sto messo di vedere In realtà Io me lo aspettavo Con la presentazione Allora Consorzio Sì Sì Però Allora Metroid Prime 4 Beyond Beyond 2025 Generico Non ce l'aspettavamo C'è Nel senso Se t'aspettavi un Metroid Prime Fu nuovo Dopo che avevamo visto il logo Ormai Cinque anni fa Avevamo visto il logo e basta Vanno ancora Andrò a svilupparlo Un'alco ballante Un'alco ballante Sì Che poi gliel'hanno dato in mano A A Retro Studios A Retro Studios Come i vecchi A posto Metroid Sotto Non c'è l'anno di uscita Della Nintendo Switch Sì Nel 2017 Quindi è bello Perché come ha fatto per Breath of the Wild An chiuso il ciclo Della Wii U Perché è uscito anche su Wii U Domanda Da quello che si è visto E si è visto Sia filmati Sia gameplay Sia visto tanto Non pensavo così tanto Cioè I trailer sono più di tre minuti Che è una bella presentazione E Rispetto ad altri Che ci fanno vedere Un minuto di CGI Questi dicono Tre minuti E rotti ci sta Tu Ti aspetti che giri su Switch Ok Male Ma sì Io Io non so che framerate Può avere su Switch Questa cosa Tre zatteracchiate E portano una soluzione Un po' Così Dinamica Cioè io penso che sia Come è stato Breath of the Wild Cioè gioco Di lancio Switch 2 Puro Compatibile con Switch Con tante 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 rinunce Certo Si sa sicuramente così Anche con sicuro Perché la grafica Che io ho visto Anche quella di gioco Mi sembra un po' Al di là Veramente Delle potenzialità Della No ma loro hanno sempre Il gioco di transizione Cioè quale Princess Che era la transizione Gamecube Qui E The Breath of the Wild Cioè io mi aspetto Che questo gioco Sia di transizione Però ti dico Per quanti miracoli Puoi ancora fare Su quella povera Scatoletta Martoriata Madonna Ormai Cioè veramente Questo mi è sembrato Un po' Oltre Cioè secondo me Se lo vediamo Lo vediamo A 720p E su Switch 1 E a 30 fps scarsi Perché mi sembra Veramente grossi Ma allora Non dico Ma Ma I metodi Hanno sempre Avuto un'attorbata Non dico perché L'hanno sempre Avuto la grafica Grossa I metodi Non hanno mai Zone Ampi Sono sempre Dici Facciamo le zone Un po' piccine Poi facciamo il caricamento Tanto la cartuccia Quando lui va Sono sempre Una serie distante Molto curate Ma le stanze in sé Non sono molto grandi Ok E che avevo visto Comunque la quantità Di poligoni Che muoveva La pulizia grafica L'effettistica Ho detto Cazzo Questa è la Switch 2 Occhio Il trailer che abbiamo visto Molto probabilmente È della Switch 2 Quello della Switch Te lo faranno vedere 5 minuti Prima dell'uscita E ci sta Ci sta Che gli edvd Conta che comunque È un genere Metroid E anche quando ha fatto La sua In trasposizione Da 2D al 3D Ha sempre Tenuto il concept Di stanze E biomi Quindi c'è il bioma Che è una serie di stanze Magari c'è la stanza Un po' più grande Tipo L'esterno Di un impianto Però l'interno Di un impianto Spesso è luogo Non è che ha tanti nemici Cioè Spesso ti mostra Dei panorami bellissimi Delle piattaforme Soprase nel nulla Però Quelle parti lì Non sono mai dense Di cose Di nemici Chiare 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 Sì perché poi E' quello il problema Cioè Il feeling La responsività Dei comandi Quando poi hai tanti nemici Devi schivare Devi fare Se il framerete A ballerino È problematica Infatti Il Prime 1 Perché in più Sembrava quasi Un gioco 370 Ma proprio Perché Sfruttava queste cose Buon Dio Retro Studio Sono comunque Bravissimi Quindi io di base Cioè non è che mi aspetto Cyberpunk Per dire Su PS4 Cioè Metroid Non sarà mai Cyberpunk Però Mi aspetto Zelda Breath of the Wild Che su Wii U Aveva insomma Qualche problemino Qua e là Di pre-break Mentre su Wii 2 Mi aspetto Sia Proprio una roba Sì 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 Non mi aspetto Metroid Come unica bomba Di lancio Dio Metroid È per noi Mario Mario Un gioco per la massa L'ancio Devi dare No Mario Entra l'anno Sì ma non subito Perché Entra poco presto No magari Lo dai Fine 2025 Come è stato Odyssey Odyssey è uscito Con la calma Bene Voto la conferenza 8 e mezzo 9 Non Non Sono in disaccordo Signor Mai 10 10 10 10 10 10 Mi sembra Un pelle 9 e mezzo Poi ho messo Looney Tunes E io ho messo Ah è a posto No io vi dico Tanta Come al solito Tanta concretezza Tanto gameplay Quasi tutto Con la data Le terze parti Vedevi che non erano Al massimo Come al solito Però Oh Se le esclusive Sono queste Che cosa Gli puoi dire Tu hai dato 8 al direct Quanto hai dato al direct di Sony 6 e mezzo Se questo 8 e mezzo Secondo me Se porti a 5 Quello di soldi Io ci sto con il tuo 8 e mezzo Bravo 5 Vabbè Facciamo 5 e mezzo 5 e mezzo 5 e mezzo 5 e mezzo E basta E basta E questo è un 8 Porca vacca 8 e mezzo 8 e mezzo 8 e mezzo 8 e mezzo Solo perché nel mezzo C'era qualche Sì Per i teli C'era il lokitri C'era cacare C'era l'unitude Che poteva per non piacere C'era poco altro Però in realtà Robe No era bella compressa 40 minuti Ti ha dato un secchio di bombe Guarda qua roba Guardando sul video Con i pezzetti C'era veramente un casino Che roba C'era bucate Cioè scusami Se su 40 minuti Inizia a fare 3 e 4 Per Mario e Luigi Super Mario Party Per Zelda Per Dragon Quest Cioè guarda che Inizia a vedere Veramente tanta roba figa Se poi metti Il trailerino De Nerva Di Fairy Tail Lo fai vedere 30 secondi Cosa frega E' un sacco di roba E' difficile Che sia roba Che sia sotto al 6 Sì sì Anche Meta Slug Quello con le carte Non è un gioco Orribile Non è quello tattico Ma le carte No C'è quello tattico E c'è anche Quello arcade Con le carte Di Meta Slug Che un altro Boom Droppato instant Ok Ma è già disponibile Penso sia anche multiplayer Ecco questo Era un pom pom E non so Vado a vedere Tante bombe Infatti vedi il casino Quello che scappa È che non riesce Ad approfondire tutto Phantom Brave Sì sì Vabbè raga Phantom Brave È un gioco della NIS Nella NIS America Questi hanno una pitta Di budget E si vede Il cacchio Bene Secondo Argomento del podcast Quanto è stato importante Quello troppo Eh anche lì Però ho dovuto selezionare No no certo Quando c'è Panish Che picchiaduristro Alimento Pazziti Questa cosa È importantissima Ma non Dice Chi se ne prega Un picchiadur Più interessano a 4 gatti In realtà L'importanza Di questo collection È che Apre la possibilità Di giocare Perché è una console Papabile Tipo PS4 PS5 Perché non avevano mai rifatti Cioè erano solo tale Erano solo piratabili Adesso no C'è un'ufficialità È importantissima sta cosa Beh se è piratabile Non puoi farci il torneo Banalmente Ufficiale Esatto Quindi Il fatto che li abbiano droppati Questo apre tantissime possibilità Ai fan Parlando di Boh ma Come hai parlando Le loro vendite Saranno costati po' Io per adesso Capcom 2 Me lo aspetto Sicuro Sì Ma poi sulla classica Vedi Marvel vs Capcom Fighting Collection Arriva quest'anno Ci sta Questo sarà Una gran bomba Per tutti quei giocatori Poi io spero Che lo passano a 39-90 Tipo Sì beh Non è gioco che comprei Tutta onestà Perché a me non piace Il genere Marvel vs Capcom Ma Tanti giocatori forti O comunque giocano Tanti picchiaduro Chi gioca a picchiaduro È un master È un po' competitivo Sì sì Vabbè Forse Vediamo Evento Xbox Allora L'evento Xbox Ha fatto vedere Tante cose Ve lo anticipo Tante cose molto belle Tante cose con una grafica E con un'impostazione di gioco Abbastanza interessante Tante cose molto strane Vi anticipo però Che ha fatto vedere Tante cose con trailerini CGI E delle date Un po' abborracciate Nel senso 2024 2025 Cioè Mentre Nintendo Ha piazzato Le sue tre esclusive A fine anno Tutte tre con la data Tutte tre col gameplay Xbox ha fatto vedere Roba già vista E senza dare Proprio delle date Ben precise Però ci sono dei giochi Molto interessanti Partiamo 2025 ID Software Doom The Dark Ages Oh Sembra figlio E Doom? Cioè nel senso Per tutti gli appassionati di Doom È un disparatutto È una bomba atomica Sembra Programmato dal Cristo Con un motore grafico Della Madonna 60 fps Stabili Che gli vuoi di? Nel loro story Allora Io l'ho visto Ho detto Carino No magari non per noi No Io gioco fps Praticamente da sempre Ma mi dà l'impressione Che sei un po' Molto da sempre No Poi quello Ti dico Cioè Non per noi L'effetto Uuuu Doom Incredibile No Infatti Però Se ti piacciono i Doom Di una generazione È una figata Se sei come a me Sei un vecchio di merda Dentro Ti piacciono i Boomer E ti piacciono i Boomer E ti piacciono di più Giocare a Warhammer Bold Gun No Con gli Strike Piacciono perché È cambiato proprio L'impostazione di gioco Non è davvero Una questione di scalda Perché Doom Devi portare avanti Una legacy Cioè comunque Doom Eternal È uscito qualche anno fa E se devi portare avanti il brand Esatto Devi continuare a farlo Il fatto è che mi sembrano Cioè tra Doom 1 e Doom Eternal E Doom Eternal Dark Age Mi sembra più quasi un DLC Che non un vero e proprio sequel Dal punto di vista proprio Di gameplay almeno Buon Allora calcolate che In realtà I D software Sono ancora dei geni Lato programmazione Fluidità e tutto Ed io Non ci sono più karma Che Romero Cioè nel senso Quindi Giustamente Lato level design E tutto Cioè non è che siamo I fasti Antichi fasti Però è un gioco Che fa rumore Game Pass Day One Multi piattaforma Qui diventerà come L'office online Quindi sicuramente Varebbe la pena Aggiornare il vostro abbonamento Perché Oh grazie Scacchio È una bombetta Puoi anche dire Mi faccio 10 euro Un mese Il Pass Ma in realtà Ecco Cosa bella Quasi tutti i giochi Che citiamo stasera Sono tutti Day One Game Pass Cioè quello Perlomeno Puoi dirglielo di bello È vero Hanno abituato La loro utenza Non comprare più nessun gioco Pertanto è tutto nel pass Quindi cazzo bene Prima o poi Va nel pass Però effettivamente Per l'utente È comunque festa Eh sì Perché dici Doom magari a me Non so Non frega più di tanto Poi dici È nel pass Eh già Lo proviamo Sì Di base Diventa immediatamente Super interessato Cioè chiunque Ha già il pass Ed è minimamente Interessato Che farlo provi Cioè ci sta Ehi Intanto lo puoi anche Giocare in streaming Adesso non so Non tutti i giochi Poi sono disponibili Su streaming È un po' da vedere Però se c'è su streaming Lo avvi Lo provi È bella zio Non perdi neanche tempo Secondo gioco Che mi ero segnato Ti ricordi Mattia Quando ho detto Che secondo me Purtroppo Bioware chiuderà Uh È vero Volevo chiederti Dragon Age Beigard I guardiani del velo L'hai visto? 2024 Purtroppo Sì Ma hai visto solo il trailer Ho visto il gameplay Purtroppo È una merda grave Che chifo Madonna Sembra il 2 Più brutto È terpenzo Penzo Sembra il 2 Che dice È una merda Più brutto E dici Ma no È tanto possibile Io quando ho visto il trailer Di trama Era terrificante Perché ho detto È Fortnite È Dragon Age Incontra Fortnite Incontra Il 3 Il 3 Era Cringgis Il 3 Era bruttissimo Con un remix Di una canzone famosa Che neanche mi ricordo Ma era proprio un remix Track Per ragazzini 12 anni Proprio Nutellosi E poi Però ho detto Ok Il trailer Sarà Tante robe Le presentano come trailer Deve far vedere Deve far vedere I cash Magari Sai Baldur's Gate 3 Ha fatto scuola Tu speri In un ritorno di forma Sì Dici Baldur's Gate Anche lui Ha fatto i suoi trailer Cinematici Poi invece Il gameplay Raffigo Oh il gameplay Ragazzi È ingiocabile Stembrossi In Scred Molto peggio Sì Ti rompi i coglioni Dopo un'ora Cioè Poi vedremo Magari ci sarà una demo Lo proveremo Tutti quelli Che l'hanno provato Che l'hanno visto Ha detto Cioè Non è Dragon Age Cioè Prima cosa Cioè quel gioco lì Dove avere un altro nome Perché di Dragon Age Ha il nome di qualche personaggio E forse qualche idea di trama Cioè il gameplay è Ma non che Devil May Cry Cioè è più brutto Cioè meno interessante Cioè non è un action tecnico È un action Brutto Basilare Con delle risposte brutte Cioè Ha un sistema GDN Ma perché A fare una Oval Già Non è altrui Non voglio capire Non è Un cold slide Non è un action tecnico Ma che Soltanto a quello che non è Ci fa Poi vediamo Però questo Cioè Fidati che vai ora E mangio il panettone Cioè Non vorrei dirlo Perché io Sono fan Tantissimo Dei Mass Effect Mi piacerebbe Un nuovo Mass Effect Fatto bene Bravo È un mandrame Un mandrame Però C'è un mandrame Questo Dragon Age Cioè devi far Fidati che il cambrame È melico No no È bruttissimo Cioè è peccato Ma Cioè siamo ai livelli Di Antemi Praticamente Cioè praticamente Sapete Ok Ha fatto vedere I primi livelli Pronto a vedere L'albero dell'abilità E sei abilità Mi sembra un albero dell'abilità Io mi ero Era diablo 3 Ma molto peggio Io mi ero Lamentato Dall'albero dell'età Di Dragon Age 1 Che era il gioco bello Cioè purtroppo ad oggi Dragon Age Origins È l'unico Dragon Age Non dico capolavoro Ma è il più bello Della saga E tra i più bei RPG E sta carriendo La saga ad oggi Perché dopo quello È stato sito terribile Cioè pensa allo scandalo Che Inquisition Ha vinto il gotti Nel 2014 Bestia Che è Cioè io Se lo giochi Ti annoi dopo Un'ora di gioco Cioè è impossibile Vabbè Gioco più bello dell'evento Secondo me Esclare Fantasy No Ha ragione Mattia Claire Obscure Expedition 33 Cioè allora Mi rendono Che nome Quello che fa il titolo Il titolo è incagabile Cioè 8 pack travel Incompronto O project Trangle strategy Incompronto Esce nel 2025 Multi piattaforma Sembra stupendo Cioè lo vedi il trailer Ha tanto gameplay Ha un bel design Ha una musica Fuori misura Cioè è veramente Il gioco più bello Che ha fatto vedere All'evento Anche per tanti esponenti Della critica Cioè la roba veramente Fuori misura Cioè turni secchi Grafica bella Idee di design fighe Idee di trama belle Cioè cosa vuoi di più Che altro è veramente interessante Vedere qualcuno che riprende l'idea Del combatto a turni Che non sia giapponese Con me Ricordo un po' L'Otodissi Sì ma anche il gioco Quello che avevano fatto Di Signore degli Anelli Che era un tonazzo Di Final Fantasy X Sì sì mi ricordo No questo qua E veramente Cioè vedi Vedi lo svolgimento Dei turni E io E io veramente Mi aspettavo molto prima Da questo gioco Dove veramente Si prendesse la base Dei vecchi Final Fantasy Con il comodo Per i secchi Però avendo La iper spettacolarizzazione Delle animazioni Dei giochi moderni Per renderlo Tra virgolette Più cinematografico Ma ugualmente Tattico e tecnico Esatto Perché in realtà Si presta Cioè proprio perché Il gioco è molto statico Diciamo Puoi lavorare molto Sulle animazioni Degli attacchi E infatti Mi è sembrato Laika Dragon insegna Sfruttarlo Esatto Laika Dragon insegna Allora Gioco fatto da un team francese Non grandissimo Attenzione Quindi mi aspetto Un gioco da 20-30 Da ore E fatto da ex Ubisoft Tra l'altro Non me lo sarei mai aspettato Le male lingue Hanno già detto Che i tizi di Ubisoft Che volevano andare Fare un gioco bello E sono dovuti andare fuori Da Ubisoft Per fare un gioco bello Sarebbe bello È un po' cattiva Ma ci sta Il sogno Io ho visto Io ho visto Che già da qualche parte Il preordine A 40 euro Se do il suo prezzo 70 Ci sto pensando Sulla fiducia Di fare una volta Ogni tanto Un salto della fede Magari aspetto Un attimino Tipo la Gamescom Che si veda qualcosina Perché la Gamescom Sicuramente ci sarà Il team è francese La Gamescom In Germania Penso lo porteranno Sembra veramente figo Comunque Veramente Veramente bello Proseguiamo Senza data d'uscita Tanto per cambiare Metal Gear Solid Delta Voi avete visto qualcosa? Ma l'ho ignorato Perché non mi interessa Il brand Però Spiegati Carlo È il remake del 3 Sì Ti piace il remake del 3 Ti piace Allora La rompere i coni Allora La community Si è un po' spaccata Perché è un remake Di Metal Gear Senza Kojima Oh Quanti Rai Però Rispetto a Silent Hill 2 Sembra un remake Un fatto Un po' più fedele Un po' meglio Una grafica migliore Non è che ti serve Il design originale Cioè Quello è Quello è Copia e incolla Eh però Il Uber Team Con Silent Hill 2 Sembra no Quindi Ma quelli non hanno capito Proprio come funzionava Il gioco Non hanno capito Cosa rendeva Silent Hill 2 Silent Hill 2 E hanno fatto Dei cambiamenti Cioè Quello è fatto Cioè Non è che è tanto difficile Basta non cambiare il gioco Cioè Glowpoint insegna Esatto Prendi Copia Incolla Basta E capi Se tu prendi Demon's Souls E cambi totalmente Tutti gli stage E dici È una merda Ti credo Torni boss Aggiungi boss Cosa Metal Gear Ho già dichiarato Che magari Qualcosina Quella Quality of life Si migliorerà Adesso Non mi ricordo Se l'hanno migliorato Qualcosa In Demon's Souls Magari Qualche piccola Robina Ci può stare Però Ancora senza data Quindi Bola Annunciato L'anno scorso Vedremo Secondo me Almeno 2025 Quindi Mentre Non tratteniamo Il respiro Vedremo Quando si vedrà Io sentivo Che c'era Qualcuno Che si lamentava Che tipo Nella difficoltà Massima Nei snake Sotto una casa E ci sentivano E eri nascosto Perché avevano La difficoltà Massima Avevano i sensi Di ragno Si però Quella è la Classica Quindi probabilmente Io mi aspetto Che abbiano Fixato Quelle cose Si Oppure Alla fine Guarda Se i pro Vogliono La difficoltà Estrema Gli fai Una difficoltà Estrema Dove ti sentono Un chilometro E se i pro Vogliono giocare Lo difficile Che giochino a quello L'importante È che la difficoltà Normal E magari Lard Sia ben Calibrata Alla fine Poi se vuoi Parne una estrema Fai quello che vuoi Ci sta Cioè Tanto è selezionabile Cazzomene E un altro gioco Che secondo me È una mezza Scammata Questo Il trailer È più finto È finto È sempre Che parli Perfetto Quando hai detto Finto Ero già capito Di cosa stai Facendo Guarda che Quella roba lì Mi ha rievocato Il trailer Di Kingdom Hearts 4 Che gli avevano Appiccicato Con Photoshop La barra Dei punti vita Di Sora Per far sembrare Tutto che fosse Vero Ma L'ha portato Su Twitch Anche recentemente L'originale Di l'originale Però Ho letto Ho letto anche Che ha fatto un po' Di casino Nel portarlo Qualche ball Ma è bello Per Switch Allora Perfect Dark Di Nintendo 64 Non era dispiaciuto Secondo me È inferiore a GoldenEye Secondo me Era da provare Io non ci ho mai giocato Quindi non ho idea di niente L'ho cerrato ai tempi Io ma non l'ho finito È la struttura Molto simile a GoldenEye Un po' più improntata Sulle cose da spia Da fare Sull'infiltrazione Chiaramente anche spari Quindi ok Però è sullo stile Di GoldenEye È un GoldenEye 2 Senza licenza No Per dire Però Perfect Dark Guarda male male Cioè quello che si è visto È bello Si vede che L'ha fatto il team Che è esplodato Su se stesso Secondo me Con il alto mare Sì Secondo me Quello che abbiamo visto È una vertical slice Cioè abbiamo visto Il gioco non esiste Abbiamo visto qualcosa Di fatto appositamente Che secondo me Non sarà mai Quello che sarà Il gioco vero Anche perché Ancora senza data Il team è esploso Ho dovuto prenderlo Sui tizi Di Crystal Dynamics Di Tomb Raider E a me Ti dico Io non so perché Non ho licenziato Sto nuovo Il tizio Quel cane Che ha preso Il vecchio team Di Crystal Dynamics Per fare di pareggio Eh che più che altro Il tuo team è esploso Devi darle un appalto A qualcuno Eh non è facile Perché Ma licenziali tutti Punto Non è che Da lì non nasce uno Eh in realtà Poi hanno messo Nel trailer di presentazione Il logo Dei due team Che di fatto Un team Praticamente non esiste più Esatto A quel punto A quel punto Licenzia Ti smetti Tutto il team E abbandonare il progetto Non licenzi Tango E tieni Sti imbecilli No Lì le scelte di Microsoft Mi lasciano veramente perplesso Ma anche qua Vedremo Gli do il beneficio Del dubbio Io no Però Però Veramente Brutte Brutte aspettative Cioè quando mi fai Un trailer del genere Già il primo trailer Era tutto in CGI Anche questo trailer Ti giuro Secondo me Non ti dico Che non è rappresentativo Del gameplay Ma proprio è Finto 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 Perché tu hai l'inizio Che in CGI E poi è stoppetto Che Sembra che è la grafica Del Cristo Più di cyberpunk Lei che si muove Non sembra gioco No È fatto come Che sembri gioco Ma secondo me È finito Però è una sensazione Cioè È un anthem Come trailer Ti ricordi Sì anche anthem Sembrava bellissimo E imperbibile C'era la fisica Video Pichissimo E poi Che sembra Entrere nel gameplay Con effetti Della madonna Boh Sì sì Vabbè Sicuro Questa merda Non la verrà È una demo Sì sì Ha la grafica Del Cristo Però Vabbè Pote con le 40-80 Con le 40-90 Si può fare No ma Mi manca proprio Parliamo di maglia Si vede che Mi manca l'interfaccio Cioè L'interfaccio Non sempre funzionare È sempre appiccicato Non sembra neanche avere La possibilità Di aprire l'inventario Quando vuoi Per come così No anche i tagli Che hanno fatto Cioè Sembrano Non lo so Boh Vedremo Vedremo anche lì Quando lo rilasceranno Ma Cioè Già il fatto Che si avvicina Al tubo E non ci sia Il tipico pulsante Il prodotto Dei comandi Da prendere Già Lo rende sapramente E meno realistico Poi chiaro Che magari È la classica roba Che è il fatto Spettacolarizzato E se no L'interfaccia è sempre uguale Non cambia mai Non c'è un aggiornamento È proprio Alla Inizia Da Kingdom Hearts Quindi Vediamo quando esce Magari qualche pezzettino È vero Però mi aspetta Almeno 2026 Quindi Con la calma Ne parliamo Perché è un brand storico Però ne parliamo Anche per mettere Un po' in guardia Perché secondo me Puzza abbastanza È sto gioco Anche secondo me Proseguiamo Fable 2025 Fable vi ricordo È fatto dai tizi Di Project Gotham Dei tizi che ha fatto Solo giochi di macchine Quindi sono Un ottimo racing Esatto Ma Sai cosa Anche qua 2025 2025 La grafica Sembra troppo bella Per essere vera Fable Walk Adventus Walk Adventus Walk Adventus Troppo Secondo me Però Però quello che Di contesto È che si è visto Poco gameplay Troppo bello Per essere vero Ma io spero Che sia così bello Quel gameplay Però Vedremo Vedremo Tipo Ma sembra Syndicate Come gameplay Ah quello di Sì sì Cioè Syndicate Da fine A qualche tempio Era una bomba atomica A livello grafico Tu dici Syndicate 360 Sì Sì era figo Però Aveva un gameplay Strapatico Era estremamente limitato È quello di Un corridoio Ma non con il caffico Cioè quello che loro vogliono fare È mettere Cioè Perfect Dark Lo stanno paragonando A Deus Ex Uno Quindi Secondo me Non lo so Non lo so Non lo so Perfect Dark Nintendo 64 Boh Quello di Nintendo 64 Ti dico La grafica Era Quella dell'N64 Quella di GoldenEye Ti dico Era bellino Da vedere Per Nintendo 64 Avevi bisogno Dell'expansion pack Per giocarci Ed era Un pelino Più ragionato Rispetto a GoldenEye Vedremo Vedremo Più che altro Mattia Discorso Walk Su Fable Walk Già Bisogna vedere Se stanno già parlando Di cambiare Il design Della protagonista Ah sì Lo spesso Boh Più che altro Sai cosa Il problema è che Quando escono Ste robe Tu hai Tutta una frangia Di communi Che dice Ecco bello Finalmente Tanto come La fai la spagna Sì Perché così Se la fai walk Dicono che personaggio L'inverno Se fai la pizza Strapona Tutti i personaggi Sono ipersettualizzati Quindi secondo me Anche adesso Hai un problema Che non sai dove voltarti Secondo me Fai come Stellar Blade Perché Le vendite Pagano chi è Ma non come Stellar Blade Cioè sì Fai quello che vuoi Esatto Cioè sei il designer Sì ma Te proprio devi scegliere Per fare Se devi prendere Proprio una scelta Per fare i soldi Perché non te ne frega un cazzo Dici Vabbè Poi ci posso approfitto Farò la cosa Stellar Blade Vabbè Tomb Raider Stellar Blade Se proprio C'è una persona arida Che non ha Un'idea Design E di arte Almeno Qua è una cosa Nel mio punto di vista Sì Fable Secondo me Quello che lo salva È l'umorismo Perché i fable Sono sempre stati umoristici Quell'umorismo british Britannico Il team È britannico Quindi Potrebbe salvarsi Da quel punto di vista Lì Più che altro Anche qua Il dubbio è Vediamo il gameplay Si sono visti 10 secondi di gameplay Forse è vero Forse è boh Forse è con la telecamera Scollegata Per fare sai Tutte le robe action Fighe Eh Sarà un po' Da Sarà un po' Da vedere Bene bene Proseguiamo Signor Mike Qua voglio sentire Un attimino Il tuo parere 29 ottobre Su tutte le piattaforme Tra un switch Life is strange Double exposure Non l'ho seguito In realtà Perché io Onestamente Dopo il primo Life is strange Eh Quello Più che altro Sai cosa Tu hai giocato l'uno Bellissimo Tante volte Io ho giocato l'uno Per me l'uno Si chiude lì Sì Questo è un sequel Il diretto dell'uno Con Maxime Protagonista Ok Ha senso? Allora Dopo gli altri giochi Che non sono stati brillanti Quanto meno Potrebbe essere Che magari Ha pensato Riproponiamo L'unico che ha dato Ha senso? Non lo so Finisce Dipende quali finali Canonico Tra l'altro Tra l'altro Perché a due finali Abbiamo fatto I fattati Sì Cambia tanto Sulla scelta finale E al netto di questo Mi piacebbe anche Continuare La storia Perché è bellissima Quella di Life is Strange È veramente Bello Come gioco Ed è strano Che lo dica io Che mi fanno cagare I giochi Così pilotati Come I giochi D'altro Tempo Però Quel gioco Mi ha colpito Profondamente Io avevo comunque Una bella narrativa Dei bei dialoghi Delle belle scelte Stupendo L'idea di riavvolgere Il tempo Facciamo un po' Avventura grafica Era un'avventura grafica Un po' Facilitata Con i capitoli Che uscivano Ogni dot Che bello Mi ricordo Quando Sì perché all'inizio Era pubblica Non è irisodica Si finisce Porta puntata Bestemmi Però il giorno Che usciva DLC Era un video buono Me lo preparavo Però scusa Non è Anti-Dome Cioè per dire Adesso Insomma Separiamo un pochino Cioè tu hai i giochi Quelli della Telltale E gli Anti-Dome E quelle merda lì Cioè comunque L'Life is Strange Aveva le sue idee Si si Aveva una bella colonna sonora Molto peccata Un bel doppiaggio Mi ci ripensa Effettivamente Non penso Che non ci giochi Veramente Un bel videogioco L'Life is Strange Io lo metto un po' A metà Tra Videogioco Avventura grafica Non è un gioco Film Perché L'abbia A togliere il tempo Quelle cose Comunque devi pensare E' delle fette importanti Che impattano In maniera abbastanza Importante Che sulla storia Quindi No no Giocone E proprio per questo Il fatto che non siano più Riusciti a centrare il bersaglio Con gli altri titoli E' un grande spiacere Bersaglio Io Non lo so Perché è cambiato Team di sviluppo Perché Don't Knot Quelli che sono andati a fare Vampire Su quegli altri giochi Banish Esatto E invece questo qua L'ha fatto un altro team Che secondo me Cioè anche Sai Life is Strange Before the Storm E via dicendo Life is Strange 2 Non sono brutti Io li ho creati Però Secondo me Non colpiscono Come il primo Cioè Sono d'accordo Andati a fare The Punisher Punisher 2024 generico Generico Intanto è abbastanza preoccupante Perché loro hanno Un po' di giochi Ancora 2024 generico E mentre Xpo E mentre Nintendo Ti dà le date Delle prossime tre esclusive Loro ad esempio Indiana Jones 2024 Sai che uscirà? Se erano sei mesi di spazio No caro Non hai capito il titolo Indiana Jones 2024 E' un segnale Che secondo me È marzo Febbraio 2025 Che non sarebbe neanche Un dramma Alla fine E Ha fatto vedere Un trailer Molto cinematografico Con delle sequenze Un po' L'Indiana Jones E poi un po' Di gameplay Secondo me Da quello che si è visto Il problema è Sembra quello Le scene cinematografiche Sono belle Perché vedi Indiana Che non ha Questa grafica Del Cristo Cioè Secondo me Potevi farlo Graficamente È un po' Più figo Sto gioco E Sì Poi vedi Perfect Dark Tipo Che è irreale Ma lasciamo stare Un po' Agli estremi Cioè Gli antipoli È il gameplay In prima persona E io Trailer dopo Trailer Prima persona Con un personaggio Di richiamo Con gli antipoli Con una stanzata O a me Continuano ad andare giù Cioè Vedremo Day 1 Game Pass Si prova Farò il pass Un mese Lo proverò Sono appassionato È la salita La salita strata Ziet Probabilmente Venderà anche Tantino Per quel brand Meno No Il brand di antipoli Non ci giocano Come Domanda Arriva anche Su Play Secondo voi E scelta Di PC Chiaramente PC sicuramente Perché Terreno neutro Play Non credo Dai Capisco Spendersi Ma Su Play Potresti vendere Un gioco Tanta euro Su Play Diana Jones A 5 milioni Almeno Di appassionati E non c'è il pass E non c'è il pass Quindi probabilmente Potrebbe vendere più su Play Che su Xbox C'era ben divertente Avere i dati dei giochi Xbox Che sono su Play Come tu vedi Eeeh Per il momento Stanno vendichiando Eh Tipo Sea of Thieves Quella roba lì Lo stanno comprando Su Play Quindi Io vorrei vedere Le vendite Quelle quante Ne hai piazzate su Xbox E quante Eh lì dovremmo aspettare Il trimestrale Almeno Cioè almeno Lì sarebbe divertente Perché se le versioni Sono superano l'Xbox E' veramente La prova del 9 Che hanno fatto un imbecillato Ma è molto probabile Ti dirò di più Perché Se ci pensi Di là il pass Eh scudo Anch'io Prima roba Non è che ti do 70 euro Per l'Indiano Jones Faccio 10 euro il pass E me lo gioco E me lo gioco con la trama Cioè A meno che non sia un capolavoro Me lo gioco una volta Ma penso alla gente Che se lo gioca sul PC E poi compra Il pass E poi compra la copia fisica Su la console play No no Vabbè Ma chiacche no Però Cioè Alla fine la play Ha venduto La play 5 Più di 60 milioni di coppie Io lo porterei Ma non da fang play Ma dici Ma va a fanguno Lo porto Faccio 5 milioni Di copie Ma ha potenziale Per fare l'Indiana Jones Assetto Sicuramente Ma dico La parola loro Uncharted Che però Non c'è niente all'orizzonte Per cui ti dico Io lo porterai subito Quando quegli altri Mentre sta uscendo Il prossimo Uncharted Nella play A Astro Boss Quest'anno Non è niente Tu puoi uscire Indiana Jones Ti fai i tuoi bei soldi Tanto Oh Le play le andate a venduta Che cazzo devi dirgli Cioè Non è non portando L'Indiana Jones No c'è niente Di cambiare l'Indiana Jones Effettivamente Che mai sta gen Non la sposti No 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 È praticamente finita Almeno dal punto di vista Del console piazzato Sì Anche perché Cioè non voglio dire Ma sta gen È uscita nel 2020 Siamo nel 2024 Tra un paio d'anni Parleremo della PS6 E lì si sposterà Lo scontro Secondo me Tra un paio d'anni Però E tra altri due Tipo altri 4-5 anni Parliamo della PS6 Ma più che altro Perché chi comanda Tipo play 4 Ha durato tantissimo Ha senso Che la faccia durare Il più possibile Anche perché Play 4 Attualmente è ancora A mercato Eh sì Ancora in vendita E ancora Gli fanno i giochi Eh Perché Non Non so neanche io Perché a questo punto Non è che dici Non ce n'è di Play 5 E non ma scusa Ce n'è Oddio Play 4 Adesso mi pare Che la trovi Sui 200 Ma siamo d'accordo Di 5 E sta a 500 Ma cazzo Ha tipo gli anni Della mia scheda video Però sai Ci giochi il nuovo Horizon Ci giochi l'ultimo God of War Cioè Cioè Un tizio medio Ci giochi l'ultimo Assassin's Creed Oddio Cioè Uno che vuole spendere poco Si accontenta di poco Cioè Nel senso E i giochi comunque 30 fps vanno No no certo In realtà Se non hai L'economia Per prenderti una PS5 Assolutamente sì Dici quasi quasi Eh Che ti frega Andiamo avanti Passiamo da un gioco In prima persona A un gioco Che ha confermato La terza persona Anche invece Colpo di scena 2024 Generico Ancora Eh capite Il problema E Awawad Awawad No è Il primo Persona C'è anche La terza Hanno fatto Il Il Strokase Di gameplay Dove La director Ha fatto vedere Che c'è la possibilità Di scegliere La terza persona A Awawad Ma che cazzo funziona Il terza persona Col gioco Legnoso Esattamente come Skyrim Ma funziona Ma diventa Kengard No ma diventa Diventa tipo Dragon Vale Di Dragon Age O diventa proprio Skyrim O Brideon O diventa proprio O Brideon O proprio un mattone C'è proprio una roba Ingiocabile No 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 Perché non vedi target Che devi targetare Quella prività La verità Sembra stare un po' Nel mezzo E diventa un completto Shit show Il modello del pg Sembra bello Le animazioni Non sembrano il massimo Ma tanto Non erano neanche Quelle dei nemici Quindi a posto Cioè si vede Che è un progetto A vasto margin Cioè non vasto Ma a doppiato Singolato Design Non sembra male Vedremo Che dite Redfall Chiudono anche questi No Sembrava Redfall Il problema E qual è Che se io fossi Uno studio Microsoft Adesso Cioè Starei lì E avrei paura Perché tipo I titti di El Blade Come El Blade Che non ne parla più nessuno Che ha venduto Zero Meno Meno di zero È durissima Cioè tu Gli continui a dare soldi A questi titti Cinque Sei anni Per fare un gioco Di merda Pazzo No Buono adesso Dai di merda Di merda Proprio no Madonna Sei veramente Politico definitivo Dai no Tu è il mega direttore Lei è comunista Però Anche Avaluad Buon gioco Che si rivolge a noi Obsidian Fa giochi Per noi Allora Obsidian Anche se ha licenza Da domani Lavoro Il problema È che secondo me Hanno messo Obsidian A fare una roba Che non so fare Secondo me Gli hanno imposto A terza persona E la prima persona L'action Rpg in prima persona Non penso Che l'abbiano voluto A fare loro Oddio Loro Hanno una tradizione Fallout New Vegas The Outer Worlds Sì Ma sempre con motore E roba che gli hanno passato Gli altri Sì E loro Sono sempre stati Dall'alto Terza persona Esatto Vedremo Vedremo Anche qui Non sembra brutto Ecco Sai qual è il problema Avaluad Indiana Jones Vague Vabbè Metal Gear Vedete InXile Che ha mostrato Due frame Di numero Del loro stato Tutto in prima persona Rpg Sembra un biochock Sembra bellissimo Sembra avere già Più idea Di Avaluad Clockwork Revolution Lì come cazzo si chiama Clockwork Revolution Quello sembra Veramente bello Eh ma Vabbè InXile Non sono i primi scappati Di casa Poi vedremo Paccato Tutti ex Più che altro Il problema È che mi sembrano Tutti giochi da pass Cioè Avaluad Dici Ok 60 euro Non glieli do Ma 10 di pass Non glieli dai Per provarlo Ma capisci Li stanno cominciando Tutti a ragionare Come ti ho detto io Facciamo Facciamo la merda A fiumi Perché tanta la gente Penserà Eh tanto Nel pass No il problema Ma è tanto La qualità dei giochi Va sotto Tanti di questi giochi Mi sembrano giochi Da 7 E non brutti Non fatti male Ma neanche il titolo Che ti spinge Però non giochi Che io ti darei 70-80 euro Cioè rendiamoci conto Cioè non Non capisco Chiudiamo L'evento Microsoft Con Gears of War Emergence Day Emerge Allora Abbiamo dei problemi Il primo è Non c'è una data Quindi vedremo Il secondo è Che è Gears of War Il secondo Sono gli stessi Del 4 e del 5 Non so se voi Vi ricordate Il 4 e il 5 No Io ho già l'ultimo Che ho giocato A quello Dove andavi A Palmanova Il 4 È capolavoro X È quello il problema Cioè mentre Gears of War 1, 2 e 3 Non so se vi ricordate Il 4 e il 5 Appunto non lo ricordate Cioè l'1 Te lo ricordi ancora Come il manifesto Tecnologico Dell'inbox Il 2 era bellissimo Il 3 Era la chiusura Della saga Di Marcus Fenix C'è il 2 su PC Sono tutti su PC Sì Ah c'è Con il Game Pass Qui giuntamente E Adesso è Un po' una polemica Su questo trailer Perché Loro all'inizio Gli hanno detto In Engine Poi gli hanno detto No raga Che cazzo state dicendo No perché È stato fatto Utilizzando le texture Che può produrre Il motore di gioco Quindi Hai perduto La scammata Ok Sarà bellissimo Perché avrà Chissà quando uscirà 2026 Vedremo Però Compartiti veramente A quel piede sbagliato Cioè mi hai fatto vedere Un trailer simile CGI Tipo Perfect Dark Bello Che però Cioè Marcus In una stanza Marcus giovane Che si legna Con una locusta Alla fine Sta per un buco La locusta accade Marcus viene salvato Da Dom Sulle note Di Donnie Darko Ancora? Ok No ma c'è nato Sai quell'effetto Nostalgia Che cani Madonna E non ha niente Dei primi Giax Devo riprendere Giax of War Che figa Vediamo Vediamo I primi due Terzo e ogni terzo Non tratteniamo il fiato Per aspettarlo Perché questo Come Mille altre robe Qua Senza data Perché ne so Vedo da Indiana Jones Forse sì Ma Perfect Dark Ecco sai cosa Hai avuto Oddio Quella pubblicità Che dice Sogni Solide realtà Sì Quella della banca Cioè Nintendo Solide realtà Magari non Il AAA Incredibile Però Trailer Gameplay Data Esce fra Tre mesi Sì anche se non è un system seller Quello Zelda Tra l'altro E dall'altra parte hai Tanti sogni Tante idee Tante Suggestioni Tante Guarda che esiste anche questo gioco Però Zero gameplay Verodate Ma devi dargli fiducia E tu a Occi A Xbox Gli dai fiducia Dopo quello che hai visto finora No Le chiusure degli studio Udi Redpol Halo 5 No Halo Infinite Scusa No Halo 5 Bo Non lo so Io ho un pc Ti dirò Evento Secondo me Superiore a quello di Sony Perché comunque Cioè I titoli che ha fatto vedere Sono di petto Vabbè Sony non ha fatto niente Sony ha fatto uno set of play Quindi ok Allora Sony di solito Fa sempre per ultima Vedendo le mosse Sì a settembre Farà l'eventone E oggi Questa gira a passo Tanto sono talmente sopra Dal punto di vista Dell'Xbox Che tanto non me ne frego un cazzo Butto una merda Perché non me ne frego Ci sono qualche stato Che il rapporto è 10 a 1 L'Italia Tra cui In Italia sono 10 a 1 Le vendite Xbox Play 5 Cioè è peccato in realtà Xbox è un hardware Della Madonna Un pad della Madonna È costruita meglio Però Che gli è devi dire Esatto Cioè quindi hanno fatto Vabbè ragazzi Chi se ne frega Buttate giusto i trailer Minimo indispensabili Buttato Astro Bot Così Sì Però a me L'hanno fatto Non perché devono fare Tutto da me Ma perché per tradizione In questo periodo Ci fanno gli eventi Anche se non avevano Un cazzo Allo stavano Dottato la pacca Ah sì Si è visto comunque Quelle due o tre robine Interessanti E via dicendo Insomma Tanto loro Quest'anno hanno già avuto Final Fantasy 7 Remake Part 2 Spellar Blade Però ti ricordi Gli anni in cui facevano Le 3 FV7 Shenmue E anche se non c'era niente C'erano proprio E' proprio The Last Guardian Fumo completo Cioè che arrosto Non c'è neanche Un arrosticino dentro Il problema Sai qual è Quei brand lì Di fumo completo Erano comunque Final Fantasy E Shenmue I brand di fumo completo Di Microsoft Sono Gears Che con gli ultimi capitoli E' stato distrutto Fable Che anche lì Fable 3 Non è un capolavoro E' uscito mila anni fa Poi un Fable Nel Margot Ha cancellato Ma non sono quelli Come brand storici C'è poco da fare Anche perché I team che dovevano Fare i miracoli Si sono sciolti Hanno fatto ben poco O sono stati licenziati Bella lì Lui hanno licenziato Lui hanno licenziato L'unico team Che gli ha fatto vincere Un premio Io non ricordo L'ultima volta Che un gioco max Ha vinto un premio Anni fa Penso Cioè Molti anni fa I premi di solito Sono monopoli Abbastanza di Nintendo O del solito Giocone Last of Us 2 Gioco trama Ma scusami Ma Xbox Non è capace Di fare un gioco trama Tipo di Last of Us 2 No Perché chiede No Chiede dopo E la gente Per un gioco Che esce nel pass Quindi non venderà Una ceppola Non ti spacca La schiena Per fare un gioco Che poi Il problema è quello Che da una parte Ricordati che anche Lo sviluppatore Lavora Per fare un system server Perché dopo Se tu a curriculum Dici Io ho fatto Elden Ring Va qua un culo Vai a lavorare Dove cazzo ti pare Ma io ho fatto The Last of Us 2 Se tu dici Io ho fatto Rappo Ti prendono a calci Nel culo Da qui Fino alla pagina Ma diciamo Ad oggi System seller Microsoft Io ho fatto Boa Lo Infinite Comunque tra i peggiori Halo E quello è il problema E non mi ricordo Altri system seller Dell Xbox Bo E il Blade 2 Eh wow E tu assumi Uno che ha fatto Del Blade 2 Cioè E ti fanno Quanti anni sei stato Eh sai Perché stavo seduto Su Biadori Cos'è uscito Quanto ha venduto Ma vai a lavorare Io tecnicamente Tecnicamente Capolavoro Però corridoio E tutto quello che vuoi C'è un capolavoro Vabbè Via NG5 Guarda che Le robe Atomiche Però l'ha fatto Perché è lo stile Di Metroid Cioè No Che stile di Metroid È un corridoio E un capolavoro Bravo Lo sei riuscito A farmi già qua No Poi che altro Ho giocato io Il Volpe Se non sono esclusiva Allora non arriva Sufficienza Neanche fra 30 anni Beh no Oddio I brand sono di peso Se vanno Peso del merda Buon dai Comunque Per fardare Per fable Io lo sei Cioè io dovrei dare Cioè io dovrei dare Cosa per l'esimo fable Che mi straccia Le poche Ghiax Indiana Jones Oggi 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 Dai comunque Un voto più alto Di so Beh No Preferisco Astro Per Indiana Jones Beh no Effettivamente Anche io Sai che io preferisco Astro Bocce C'è un puntico Sì Va bene Ultima parte del podcast Un po' più veloce Così andiamo In una lunga E' unica cosa Che si non salvava Non me lo so Il 21 giugno E' uscita L'espansione di Elden Ring Shadow of the Earth Finalmente Nella settimana In cui non potevo giocare In videogiochi Nel mezzo In cui non potevo Non vi preoccupate Perché affronteremo Dei temi Abbastanza generici In quanto non fa Niente Posso anticiparvi Niente Posso anticiparvi Che il gioco dura Oltre le 30 ore L'espansione E dove cazzo Entrano via Le 30 ore No ma per dirti Comunque Un'espansione corposa C'è un gioco intero Domanda Per fare l'entrata Vi anticipo Che loro Hanno detto Che bisogna uccidere Mogher Adan Questo vi anticipo E poi le roba Diciamo che C'è un motivo Di trama Il problema È che la gente Piange Perché l'entrata È dopo Mog Allora ragazzi Non avete giocato A Dark Souls Perché se giocare A Dark Souls Ragazzi Ma io veramente Pensavo di essere stato Scannato Ma io sì Tu iniziavi Dark Souls 1 Lo giocavi normalmente E dici dove cazzo È l'entrata Dove cazzo è l'entrata E non c'è niente Più del gioco base Ma infatti È impossibile Perché trovare Le passioni Di Dark Souls 1 È un gioco Nel gioco Sì 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 Buon Enrique Però l'ha detto L'entrata È lì Dove ti avrei battuto Questi due Ma io ti faccio E così Mi avrei dato Altri dieci euro Per me Dio Che cazzo è che È un porco giunto Di entrare La guida in linea Che gli mette il puntino Anche perché Scusatemi Secondo me Fra un so Pezzo di fango Ho aggiunto un popo Nella mappa Di vero di trovare Esatto Io ti dà un oggetto Eh ti guardi Ti voglio trovare L'entrata Dove Pezzo di verde Cazzo Però un so Tu hai fatto una scelta Cioè adesso Che ho giocato Un bel po' Del DLC Sia coerente Con la trama Sia molto coraggiosa Perché pensaci Se loro ti facevano Un DLC stand alone Cioè che lo potevi iniziare Dal menu di gioco Quanti in più Ne potevi vendere Potenzialmente Tantissimi chiaramente Secondo me Loro hanno fatto Una scelta anti-economica Per il quale Io li appoggio Perché dici Perché sono tanti coerenti Con loro Con loro Che sta Ma in realtà L'hanno fatto quello Che non ho sempre fatto Non so Non c'è il 3 Però Ammetto un'altra Che non mi è piaciuto No il 3 Devi arrivare un po' Per tutti e due E uno devi arrivare Verso la fine E uno devi arrivare A un terzo di gioco Vedi Quindi sono tutti coerenti Ok però Tanta gente Cioè Scusami Che accusa Ad esempio From Software Di Essere Sì Che ne so Perché poi Pur gli stili Dicono il Milden Ring Troppo facile Si è aperto I Casual E qua e là Sì però scusami Se si apriva I Casual Ti faceva l'espansione Col bottone Entra nel menu principale Che vaffanculo Perché deve farti Un'espansione difficile Da trovare Per Casual La cosa buona È che Danny Non ascolta Gli imbecilli Che dice che Dellen Ring È un gioco Troppo difficile È un imbecille Che non ha capitolo Secondo me Né troppo facile Né troppo facile Dai Non mi esagerà Non ce ne frega un cazzo A loro Se è troppo difficile Troppo facile Loro fanno il gioco Come vogliono Perché se loro Credono Che quello È a livello Di difficoltà Giusto Per il loro gioco Quello è E se non ti piace Va a panculo Non giocarci No apprezzo Apprezzo Perché la vivione È dell'autore È dell'autore Esatto Cosa che non si vede mai Se non ti piace Non eserci il tuo diritto Di consumatore Non lo compri Il direttore Avrà conseguenze Se poi Se poi vende comunque Vuol dire Che la scelta A gran parte Di giocatori O una grande fetta Di giocatori È piaciuta Esatto E secondo me È molto più geniale Il Dellen Ring Tutto da Una serie A livello Di design Di costruzione Di gioco E il gameplay Però calcolate Che comunque Dark Souls 1 È anche 2011 Io al Dellen Ring Lo vedo come La fine di un cammino Esattamente Non poteva esserci Al Dellen Ring E non c'è nessuno L'idea di Miyazaki Che poi non è del tutto Tanimura Esatto Eppure prima della parte Tanimura E il Dark Souls 2 Esatto Poi La trama I personaggi Un po' martiri Un po' Miyazaki Le robe Le cose C'è quell'altro Però Sì Un po' marketando Un po' così Come il livello Di gioco È proprio È tanto avanti Rispetto agli altri Souls Anche perché C'è una frangia Adesso sta ricevendo Del review bombing Allora Shadow of the Red 3 A 96 di metascore Dio È giustificato Se merita Dio 9.6 Dio Per i miei standard Io forse un po' meno Però è comunque Un'espansione Della Madonna Cioè ci sta Sta ricevendo Review bombing Perché tanti casual Invece dicono Che è difficile Perché tu entri E ci sono Dei boss Che sono difficili Ma scusa Ecco Pronto Del ring L'espansione Adesso Aspetti Giustamente Del ring Ripetiamoci Malenia Malenia So che i pro Dicono L'ho fatta a livello 1 Con un braccio Dietro la schiena L'ha battuta Un pesce rosso Malenia Però se tu prendi Esci fuori per strada Prendi un giocatore Che gioca A Far Cry Gli dai Elden Ring Lo bastona Dall'inizio alla fine Cioè il gioco È facile Per chi ha La build maxata La build Che spacca il gioco Oh La memoria Gli ripattano Qualunque cosa Vedi che c'è anche gente Che si lamenta Di Elden Ring Dicendo che è troppo largo È troppa roba Ci si perde Troppo facilmente Però signor Mike Adesso ha rotto anche il cazzo Tu l'hai detto Quello per triggerarmi Allora Elden Ring Però Prendiamo un po' il senso Della misura Perché Uno dice che è troppo lungo Uno dice che c'è Troppa poca roba Uno dice che Hai il leader Dell'altro dice Che è troppo difficile E l'altro dice Che è i vostri ripetuti Boh Cioè mettiamo C'è sempre un po' Che piange però dai Allora I vostri ripetuti Nel Elden Ring Base Ci sono Cosa c'è Ma chi se ne fa dire Dove dire Le sotterranie Shadow of Deer 3 Non c'è un Boss ripetuto Non c'è un Sotterraneo Uguale all'altro Tutti Devi aspettare Guarda la fine Sono davanti al boss finale Sì Di Shadow Quindi Mi manca ancora Quattosina E c'era gente Che cazzo Perché il demone Della Forza Il demone Della Forza Era Un boss Dai Ehm Della ringa Sette gatti Tipo No per dirti Hai Ogni miniera Ogni cosa Ha una meccanica unica Un boss unico Alla fine O Ti fa uscire In un altro posto Della zona Quindi attraversa Tipo le montagne Tutti Sotterranei Tutti Non ce n'è tanti Però Sono fatti bene Meglio poca roba Per cazzo Fatta come Dio comando E Ricordi Ma Anche i dungeon Un po' Quelle texture Ripetute Non ho Non ho Qualche texture Ripetuta Non mi ha dato Alcun fastidio Perché devi vedere Il contesto Del gioco E' chiaro Che se ad ogni gioco Andiamo a vedere Il pelo del culo Del difetto Troverai Qualunque Il gioco La gente sta tentando di laminetarsi Più che altro Hai tanti nemici nuovi Tanti boss nuovi E' uscito Starfield Madonna cara Perché si l'ha Mi ero dimenticato Quando citavo I capolavori dell'Xbox Pensa Cioè ragazzi E' uscito Starfield Io volevo fare 10 euro Di pass Per giocare Starfield E devo ancora farlo E ancora ogni tanto No Aspetta per piacere Aspetta Fatmi un favore Esatto Esatto E' bello che lo dico Anche per il Blade Ecco Smed Quindi Non sprecatevi ciò di Starfield Ti giuro Non gli ho solo scritto A tagli un uomo No il problema è Come sono messo adesso Nella mia vita Da un po' di anni Mi piace il gameplay Cioè Non mi sembra Non c'è cosa Non c'è il gioco Esci madonna Fai i tuoi dieci passi E la prima cosa Che ti chiedono E recuperare il cazzo Di code di moffetta Come Inquisition Arrivi nella prima mappa Open World E mi vai a prendere Dieci pezzi Di quel minerale Ci ma caro Questa è la sede Tremendo Io ti sto parlando Della main quest Main quest La prima main quest Era un code di moffetta Io sono entrato Ho provato A parte con la nave spaziale L'ho droppato lì Perché veramente Era già troppo Cagare E' proprio troppo Una merda Già raggio Vabbè Dai Vediamo Allora Dimensioni Del DLC Secondo me Dalle 30 alle 50 ore Per un giocatore Che non guarda Su internet Perché è chiaro Vai su internet Vedi i boss Vedi solo le armi Vedi dove è tutto Secondo me La prima run Non ha senso Prima run Dalle 30 alle 50 ore Tanti mpg Tutti nuovi Con delle quest Li vedi sulla mappa Quando li scopri La prima volta Quindi Se ti spostano Non li vedi più Quindi Ok Però io ho fatto Tutte le quest Tranne Una l'ho persa Perché ho fatto una cagata E il pc l'ho menato Però ci sta C'è la prima run Io le quest non le faccio mai Altre due mi mancano Mi perdo sempre Non fatto il BBC Estensione E' come Sepolcride Più Kylind Perché Perché È gigantesco Sì Sì Tutta la zona sotto A dungeon Super strane Corsi di fiumi Robbe Metà gioco No Metà gioco No Perché poi c'è Diurnia C'è Capitale Ce l'avete dei giganti C'è Sto capo Di Parumardula Però è grande Cioè Vedi la mappa E dici 40 euro Spesi bene Cioè E' veramente Una mappa bella A un uberboss Molto difficile No vabbè Il gioco originale A parte da me Il drago forse Che sparava il pug I duzzax Ah sì Quello finale Quello che trovi Sì a farumardula Sì E per il python Poi quello Poi quello Tra l'altro Vabbè Per il vago Per il lago Vaso Quello dove Ti devi distendere Ah sì Vori via E fai fai Dopo In quella zona lì Mi pare C'è il vaso Dove Ti ho detto Esatto Esatto E ti dà Il coso Che ti aumenta La potenza Delle abilità speciali E si scopriranno cose Su tanti personaggi Di Elden Ring Preparatevi Almeno Tre Colpi di scena Quindi Miquella È sceso il fuoco Beh Calcola che Nel trailer C'è Miquella L'NPG Che ti dice È lì che fai Gentil Miquella Quindi Nel trailer E non ho visto O appena entri nel DLC Quindi erano Il Dung Eater E Approfondiscono Di affollia Magari Approfondiscono Gente che non Ti aspettavi In maniera Molto sensata E ci sono Dei colpi di scena Abbastanza importanti Che vedrai Vedremo Non diciamo adesso Narrativamente Ne vale la pena Poi Dio Mille robe Non le ho trovate Magari Tante robe Le ho capite A cazzo di cane Vedremo Ma la follia L'ha approfondita Non te lo posso dire Perché sì O no È fuoco Ok Quindi Rischia di essere Di chiarificare un po' Questa cosa Dio Ti dico di no Si toglie già Una cosa importante Si dico di sì È un elemento Molto importante No ma Che vuoi dire Cioè Personalmente Poi capire come Viene spogliata Perché non si capisce niente Di fatto È contenuto tagliato Quello della follia Di Elden Ring Perché Diciamo che Andiamo Su altre direzioni Ah ok Perché sai che L'originale In Elden Ring Miazacchia Aveva creato Tutta la lode A follia di Mane E poi Tutti i personaggi Ci sono delle quest Che hanno tagliato Delle quest Tagliate Di Elden Ring Troveremo cose Nell'espansione Ah figo Esatto Esatto Quindi i porti Proprio Anderanno lì Si sperano Perché La storia Da follia Che è finissima No quella È un pezzettino Minuscolo In Elden Ring Di una cosa Che si vede Che c'era molto di più Ma tutti sai I nomadi Si 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 Che stiamo portati a casa In realtà Cia briri Avevano Tutta una loro Che è stata Cattata Però Dai Sai cosa I souls Come in tutti i giochi Ci sono i tagli Mi hanno tagliato Tanto in Bloodborne Mi hanno tagliato Tanto in Dark Souls 1 In Demon's Soul Cattrino in Demon's Soul 1 Un mondo intero Praticamente Una stronzata Quindi ci può stare Ci può stare Bene bene Ragazzi Direi che possiamo andare Verso i saluti Verso la fine Non so quanto piano Domani c'è 6 e mezza Quindi devo assolutamente Esatto Esatto Secondo me Direi che siamo Beh oddio Abbiamo detto In realtà Mi facciamo da un'ora È quasi un'ora e mezza Sì E purtroppo C'hai visto Dì dopo è successo Sì infatti Più il Direct Di Nintendo Che il resto Per me Secondo me Potevamo fare Un podcast Solo sul Direct Di Nintendo È stato bello Però sai Evento Xbox Che fai non ne parli Già la Stamme Game Fest Che Mattia ha visto Non ne abbiamo parlato Un fatto bene Non mi sta quest'anno No Ti ti è perso Gioppone Le tre ore Oh io avevo cose da fare Io contavo che vedeva Gioppone Poi arrivava qua e raggiava E diceva che merda Troppo con la merda Andiamo solo su Nintendo Non si sbaglia mai Bene Direi che Carlo Fa i saluti Che così stacchiamo Bene ragazzi Ci si vede in giro Per qualche fiera Ci si sentirà Per qualche podcast Prossimo Che in realtà Vedremo un pochino Come si muove Di solito Agosto Un mese morto Però luglio Vediamo se uscirà Ancora qualche bomba Con questo raga È tutto Un salutone Bella ragazzi Ciao Ciao